Hai spirito imprenditoriale e stai cercando nuove sfide professionali? Questo è il tuo momento. In Engel & Fölkers, azienda immobiliare leader con più di 40 anni di successo e prestigio internazionale, stiamo ampliando la nostra squadra di agenti immobiliari freelance a Porto Cervo e Olbia. Cerchiamo professionisti ambiziosi, con innato talento commerciale e passione per il settore immobiliare. Persone con ottime capacità comunicative, oneste ed empatiche, in grado di essere i consulenti per i nostri clienti. E cosa ti offriamo? Le commissioni più interessanti del settore, metodo e chiavi di successo per raggiungere i tuoi obiettivi, coaching e formazione continua su misura, oltre ad un'ampia rete di contatti. E tutto grazie alla forza di un brand consolidato, con un forte investimento in pubblicità e marketing personalizzato. Tutto questo con libertà e autogestione, così che tu sarai la tua impresa. Collaborare con Engel & Fölkers è la migliore scelta per trasformare il tuo talento in successo. Vogliamo rivoluzionare insieme il settore immobiliare? Engel & Fölkers